Mi chiamo Alex e vivo nel campo e quando corro sono un lampo. Mi piace giocare a pallone ed estate mangio il melone. Amo Gypsy King e mangio Burger King. Mi chiamo Dominic e non ho voglia di fare niente. La mattina sveglio cantando una canzone come un gallo quando fa che ricchi ricchi chi. Io ti saluto rimanendo qui. Io sono Kimberly e mi piacerebbe fare la parrucchiera e per diventare brava mi esercito ogni sera. Il mio cantante preferito è Romeo Santos e la canzone che mi piace di più è Eris Meas. Mi piacciono tantissimo i profumi e quando passo lascio la mia scia. La mia materia preferita è l'italiano e con i corpi che Alessandro mi dà una mano. Io, chi sono io? Chi sono io? Chi sono io? Mi chiamo Jasmine, mi piace molto la matematica e penso di essere molto simpatica. Mi piacerebbe andare a Napoli una volta nella vita e spero di visitarla quando la scuola sarà finita. Romeo Santos è il mio idolo da sempre e le sue canzoni ho sempre in mente. Sono Shojip, ho esami di terza. Non ho voglia ma devo farli forza. Vorrei stare sempre a giocare al parco o cellulare. Non faccio mai i compiti, preferisco aggiustare i computer. Fare la pizza agli ospiti. Io, chi sono io? 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 Mi chiamo Omar, ho solo 14 anni. La scuola mi fa schifo e quando vado faccio danni. Mi piace giocare al calcio con i miei amici. Insieme al parco sono i denti felici. Il mio sogno è diventare un calciatore e di incantarmi tutti quanti davanti al televisore. Io mi chiamo Shakira e mi piace ballare, mentre quello che non mi piace fare è suonare. L'estate vado spesso in vacanza a Riccione e siccome fa caldo non mi metto mai il maglione. La mia canzone preferita è balabarabara, bere 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 e questo è il mio ritmo che fa per me. La mia materia preferita è la matematica, invece l'arte mi sta proprio in pratica. Io, chi sono io? Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale